Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento il primo romanzo della serie di Arkham Horror, L'Ultimo Rituale, edizione italiana a cura di Asmo d'Italia, che ringrazio immensamente e di cuore per avermi offerto questo titolo per la recensione, ed è il primo romanzo di una serie che arriveranno, che poi vi faccio vedere da vicino all'interno quali saranno, di cui io non vedevo veramente l'ora. Da quando ho visto l'annuncio, ma già ai tempi in inglese, perché, grazie alla Fantasy Flight, che ora fanno anche da editori di romanzi, e lo stesso l'Asmo d'Italia che li pubblica nella nostra lingua, non vedevo l'ora perché Arkham Horror è un'ambientazione talmente bella, e anch'io qua dietro sono talmente pieno di giochi, e il nostro preferito, ve l'ho sempre detto mia e mia moglie, le case della follia, lo vogliamo con tutte le espansioni perché le stiamo collezionando, perché è talmente bello e valorizza talmente tanto le opere di Lovecraft, che per me sarebbe stato un sacrilegio disumano, non scriverci anche dei romanzi da quello che io veramente definisco il padre, che non lo è, perché ci sono stati Macken e tanti altri, ma per me è il padre dell'horror storico a livello mondiale, quindi almeno negli ultimi 200 anni. Vi presento un pochino questo romanzo, ovviamente cercando di non farvi troppi spoiler, dopo la sigla. Arkham Horror, l'ultimo rituale, edizione italiana del primo romanzo a cura di Asmo d'Italia, racconta ovviamente della città di Arkham, che poi abbiamo visto essere un po' ripresa e diventata famosa anche nei fumetti di Batman, ad esempio, Arkham City, Arkham Asylum, perché è un posto talmente tetro e cupo dove tutto può succedere, e se voi comprate anche il gioco di ruolo, il 99% delle vostre avventure saranno ambientate ad Arkham, un po', ad esempio, come il 90% delle avventure di Dylan Dogg sono ambientate a Londra, o comunque nei dintorni. E questo è veramente, veramente molto bello, perché ci porta in questa Arkham, che si passa da una parte all'altra, dalla parte ricca, alla parte povera, alla parte dei molli, con gli scaricatori di porto, contrabbando, polizia che si fa i suoi affari, quindi la polizia sul libro paga di qualche malavitoso, o anche semplicemente di qualche ricco possidente, ed è molto bello, perché racconta di un pittore, tale Alden, che si innamora di una ragazza, talenina, senza poi farvi spoiler nient'altro, e loro, lui, in particolar modo all'inizio, ma successivamente insieme, assistano a dei fatti, particolarmente insoliti nella città di Arkham, dove qualcosa sta succedendo, e qualcuno sta cercando di evocare, potenze e divinità astrali, ad esempio uno chiamato il Non Sole, che arrivano dallo spazio, un po' come tutti i miti di Lovecraft, alla fin fine questi orrori cosmici, di cui lo stesso Cthulhu, per quanto fosse rinchiuso nella città di Ra'Ele, nelle profondità oceaniche sulla Terra, ma comunque sono entità spaziali, tipo i Migo e quelle creature lì, che insomma un fan di Lovecraft, sicuramente conoscerà, e stanno cercando di aprire un portale, con un rito, per far arrivare queste potenze sulla Terra, e loro saranno chiamati, non volendo, ma finendoci nel mezzo, tramite amici, o fatti successi ad amici, a persone care ed amate, a dover combattere, e fermare questi cultisti, quindi non è un romanzo innovativo, non è un romanzo che ha un finale, che ti lascia a bocca aperta, non è un romanzo che ha una storia, magari anche troppo articolata, a questo no, ha diversi cliché, ha diverse cose, dà magari tanti spunti anche per giocare avventure, ma è la classica avventura ad Arkham, che potreste trovare nel gioco base, ad esempio, di delle case della follia, o nell'avventura base, quella tutorial di Arkham Horror, ad esempio, quindi è un'ambientazione classica, è una storia classica, però è scritto bene, è incalzante, me lo sono letto in praticamente due giorni scarsi, veramente leggendomi anche tipo, 150-200 pagine al giorno, ed è veramente interessante, perché ci catapulta in questa visione, e secondo me, per quanto sia un romanzo, 50% di indagine, e 50% di azione, porta veramente onore, a tutte quante le opere di Lovecraft, secondo me, nella maniera migliore possibile, e secondo me, se il maestro, avesse avuto la possibilità di leggerlo, l'avrebbe indubbiamente apprezzato, quindi, se siete veramente fan dell'ambientazione di Arkham Horror, e volete anche conoscerla un po' di più, non leggendo i libri di Lovecraft, ma leggendo questi romanzi, ragazzi, non ve li fate scappare, perché una pagina tira l'altra, e sono delle droghe, ve l'ho detto, non ci sono innovazioni, trame particolari, ma se cercate l'horror di Arkham Horror, e di Lovecraft, questo romanzo è perfetto, e poi ne seguiranno altri, come vedete qui da vicino, ne stanno per uscire molti altri, della serie, dovrebbero essere 5 o 6, inizialmente, poi io spero che ne faranno anche altri, della serie di Arkham Horror, e non soltanto, questi due qui sono i nuovi che usciranno pubblicati, prossimamente, questa tra l'altro, la maschera d'argento parla del re giallo, e non vedo veramente l'ora, Astur, che è uno degli antichi preferiti, e addirittura porteranno anche romanzi, della leggenda dei Cinque Anelli, ambientati nel Rokugan, e come vedete, anche per la nuova edizione di Descent, il destino di Fallo Art, che se girate nel canale, l'ho già recensito qualche settimana fa, quindi, veramente, un libro che non vi deve mancare, una bellissima copertina, veramente bello, una pagina tira l'altra, e ragazzi, se siete fan di Arkham Horror, non ve lo fate scappare, ciao a tutti, alla prossima!